È arrivato il momento, anche in mista delle riaperture delle attività commerciali, di aiutare commercianti e i settori che maggiormente stanno attraversando, forse il periodo più buio dal dopoguerra ad oggi. Non trascorre giorno che non si registri una protesta o una manifestazione per chiedere aiuti allo Stato centrale e anche agli enti locali. Questa mattina a Benevento in piazza sono scesi ristoratori, commercianti ed albergatori che hanno chiesto un intervento anche al prefetto Sannita. Praticamente noi volevamo sapere dal nostro prefetto dove stanno i soldi a sostegno che la Regione Campania stanzia per il centro storico e per le relative attività o questi soldi vengono spesi solo per le sciocchezze. Ora però è arrivato il momento di fare qualcosa anche per le tante strutture alberghiere e per i ristoratori, pensare insomma anche alla fine delle restrizioni e alla ripartenza. Per il turismo bisognerebbe presentare una città a chi viene perché i turisti verranno a Benevento, cioè quando la città riaprirà questa è una città che riceverà i turisti, ma come li accoglierà? Continueremo ad accoglierli con centinaia di saracinesche abbassate? Presenti alla protesta anche gli esponenti del Partito Democratico, forse è tale città aperta. Il compito nostro della politica in genere è quello di ascoltare tutti quelli che possono essere i motivi e le ragioni del disagio, soprattutto in questo momento particolare, quindi ovvio che laddove ci siano delle richieste di aiuto, diciamo così, o comunque di ascolto da parte delle persone, noi dobbiamo essere presenti. Grazie. 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 Grazie.